Amici di Trading Turbo 24, buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento settimanale dedicato alle strategie operative a mettere in campo con i certificati di strumenti targati IG, quest'oggi andiamo a parlare di Alibaba, una sola inclinazione ADR e in particolar modo andiamo proprio a quello che è il grafico tecnico della società che nel corso delle ultime settimane, è quello che vediamo, un grafico su base settimanale ha dato delle indicazioni ribassiste con la violazione di questo supporto dinamico espresso dalla train line ottenuta con i minimi dell'ottobre 2022 con i low della fine del mese di maggio di questo 2023, per il momento un valido supporto avvenuto da quelli che sono stati i minimi proprio del mese di maggio in in area 78 dollari per azione, vediamo proprio nelle ultime ottave il riferimento specifico ai minimi della fine di ottobre come il sostegno si è giunto in modo chiaro e netto. Cosa fare? Beh per andare a vedere da un punto di vista operativo scadiamo il grafico su un orizzonte più breve, quello giornaliero ed ecco che si possono dare individuare delle possibilità sia in ottica rialzista che ribassista, in ottica rialzista è possibile infatti strutturare delle strategie long in prossimità degli 81 dollari fino alla parte bassa di quei supporti posti in area 79-80, ovviamente minimi di fine maggio, quelli del 31 maggio in area 77,77 che rappresentano il livello di stop che si attiverebbe in caso di caduta delle quotazioni sotto questa soglia, per quanto riguarda invece gli obiettivi al rialzo, beh un primo livello individuabile in prossimità degli 88 dollari per azione, successivamente al rialzo il pullback profondo della trendline ascendente che citavamo in precedenza a un livello che è possibile individuare in prossimità dei 95 dollari, per chi invece volesse strutturare delle strategie ribassiste, beh in questo caso conviene valutare eventuali ritorni in prossimità della soglia psicologica dei 100 dollari per azione e in questo caso lo stop da posizionarsi a 105 con dei target intermedi a 92 da prima e per l'appunto in prossimità degli 80 dollari per azione. Per quest'oggi è tutto ci vediamo la prossima settimana con Trading Turbo 24, come sempre buon trading a tutti voi!